Al tuo fianco anche io lotto, perché per eliminare la piaga della violenza sulle donne ci vuole l'impegno concreto di tutti, a partire dalle istituzioni. Al tuo fianco anche io lotto, perché insieme possiamo mettere la parola fine a questa ignobile cultura di sopraffazione. Non sei sola, lasciati aiutare, io lotto con te. Incomincia il nuovo anno di io lotto, un'iniziativa del Comune di Napoli che ho fortemente voluto e in cui credo profondamente, realizzata con la collaborazione di Italia SRL, Alicam SRL, Scuola di Cinema di Napoli, World Wide Reps e di tanti testimonial che hanno scelto di prestare corpo e voce a questo progetto. Rispetto alla situazione partenopea negli ultimi mesi abbiamo fatto molto per contrastare la violenza di genere, ma è dubbiamente necessario un netto cambiamento culturale da parte dell'intera collettività. Ogni donna vittima di maltrattamenti deve sapere che i centri di ascolto e antiviolenza sono nati per dare un aiuto concreto a chiunque subisca violenza, forniscono accoglienza, ascolto e supporto nel pieno rispetto dell'anonimato. Ogni donna vittima di violenza deve sapere che se decide di denunciare i maltrattamenti subiti non sarà lasciata sola, ma tutelata e affiancata in tutto il percorso che la porterà a riappropriarsi della sua vita. Ogni donna deve sapere che non merita di subire maltrattamenti, basta il coraggio di chiedere aiuto. Fatti ascoltare, chiama il 1522, scrivici in chat o rivolgiti al cavo più vicino, puoi trovare l'elenco completo in descrizione.